ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video puntatella ricca amici ficco come diceva quella pubblicità o come diceva anche rocco oggi abbiamo 5 video messo dentro 5 video di lunghezza variabile quindi dovrebbe venire fuori una puntata sostanziosa per lo meno a livello di quantità speriamo anche a livello di qualità perché semplicemente ci può aiutare poi a scoprire qualche orologino qualche nuova scimmietta da mettere sulla spalla nel senso che insomma quando vedi un orologio che ti interessa poi magari approfondisci e ne approfitti anche per studiare un pochino lo stimolo deve portare cioè quando la mente è sempre in movimento no ha sempre nuovi interessi nuove passioni nuove nuova voglia di apprendere e beh ci ringiovanisce tutti è l'unico sistema per rimanere giovani è leggere molto informarsi molto avere molte passioni e approfondire il più possibile è quello lì è un gran bel sistema per passare questo pezzo di tempo che ci tocca passare su questo pianeta detto questo adesso vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo per la prima volta lo vedete come l'orologio del giorno rolex yacht master con il quadrante blu 40 mm calibro 32 35 lente magnificatrice che è proprio il non plus ultra no per casa rolex bellissimo uno sportivone di quelli che fa la sua figura al polso mi pare anche quasi di essere elegante quando lo indosso poi lo vedete come sono messo quindi l'eleganza ce n'è poca passiamo al primo video dai fuoco fuoco alle polveri puttupum ciao davide ciao inizio col farti i complimenti per il canale molto gentile io sono davide e ti mostro la mia collezione è certo di orologi come tutti allora parto con i lasciti dei nonni allora questo è il nonno paterno cos'è lo inizio con questo che sinceramente non ho trovato niente e quante scritte c'è nessuna informazione su questo orologio pare un manifesto non ho idea di che cosa sia però lo tengo perché ha un valore affettivo eh sì boh poi questo è un dahlia dahlia presumo anche questo sia uno swiss made un micro brand dall'epoca ma anche su questo non ho tante informazioni però valore affettivo anche questo che scritte c'è sembra scritta macchina sembra boh poi eh questo romer romer guarda come vissuto micro brand conosciuto si micro brand summa via si vissuto tantissimo era l'orologio di mio nonno di tutti i giorni praticamente non se lo toglieva mai ganzo infatti ha i suoi segni del tempo mi piacciono queste storie così romantiche il cinturino non è originale la fibia neanche ma che ci frega ma mi piace ogni tanto lo metto cinturino non originale fibia non originale ma perché sono quelle cose no tu non le indossava quotidianamente quindi è veramente l'orologio come da battaglia no quindi veniva aggeggiato tra l'altro mi sembra che il cinturino è fuori misura rispetto alle alze sottodimensionato e veniva aggeggiato proprio per andare avanti per continuare a svolgere il suo lavoro mi viene in mente quando no io facevo modellismo quindi cosa ci sono gli esemplari no di aereo o di carro armato di quello che ti pare a te che si possono fare esattamente come uscivano dalla fabbrica belli fiammanti l'aereo fiammante no il messer messer smith me 109 messo lì oppure si può fare come era sul campo perché da come esce dalla fabbrica a come erano sul campo durante i combattimenti durante le battaglie no appunto durante il suo percorso storico cambiava completamente venivano fatte dei rattoppamenti sul campo delle modifiche per migliorare la visibilità o per proteggere magari il carrello venivano fatte delle modifiche sul campo quindi quando fai il modellino lo vai a lo cerchi di riprodurre come era in quel dato momento in quel dato periodo sul campo di battaglia in polonia ok lì tra c'è la fotografia te lo fai uguale perché vuoi riprodurre la vita vissuta e in questo caso gli orologi riproducono la vita vissuta quando te ne becchi uno con il cinturino che è stato modificato cambiato c'è un suo perché anche quello a meno che tu non lo trovi in os cioè fondo di magazzino che lì è come uscito dalla fabbrica e anche quello ha un suo perché con il cartellino te lo trovi nuovo eccolo qua hai la fotografia di come era uscito nel 1969 dalla fabbrica e che ce l'hai e questo ha un valore storico poi senti che devi dare valore all'orologio no gli devi trovare un motivo per cui ti possa piacere tantissimo in questo caso è vissuto da tuo nonno e come era sul campo e ha senso di essere tenuto così capito passo agli orologi del nonno materno e parto ne ho solo due ne parto con questo seiko seiko 5 placato oro e da qui inizia la mia passione per seiko questo orologio me l'ha regalato che avevo 12 anni e ogni tanto lo metto ancora bravo un po' di brio eh dai su queste pause qua poi quello che veramente mi ha fatto appassionare a seiko e questo seiko 7500 con il suo bracciale originale a chicchi di riso originale questo è un orologio fantastico che mi veramente mi ha fatto impazzire per tanti anni l'attaccatura alla cassa eh mamma mia è revisionato da poco l'ho rimesso in funzione il quadrante veramente pulito un bellissimo orologio e questo lo metto spesso le anse ballerine lì c'è finali veramente da paura ora passo ai primi acquisti che ho fatto vai facci vedere veloce però perché questo comandischi comandischi che bello questo su comandischi gli ho messo io questo cinturino in gomma semplicissimo hai visto la cassa così del comandischi nulla di che il suo bracciale originale non mi piaceva un po rovinato infatti l'ho dovuto adattare ma ma che adattamento lo uso poco ho capito ma comunque va bene va bene ma cinturino sta giuzzato così dove siamo russo rimaniamo sui russi questo neptun verde questa è una serie limitata ma tutto sommato è costruito bene bracciale solido ah toh mille buono con il suo fondello bello con le incisioni ah un bello orologino dai nulla di che ma al prezzo che che l'ho comprato non è valsa la pena buono vai con calma eh poi l'orologio che praticamente uso da sempre al mare mettetevi lì di fianco no orient canon versione nera 44 mm ho messo questo cinturino in gomma molto comodo anche il suo bracciale me lo rendeva molto pesante e questo mi ha accompagnato praticamente mi accompagna praticamente da da cinque anni sei anni al mare veramente fantastico non perdo un colpo ai suoi segni del tempo se segni del mare sono contento di questo orologio bravo vai cucina pigliare quell'altro e ora passo alla mia collezione seiko che ne vado più fiera fiera e dove siamo parto fiera questa è la fiera questo che lentezza però seiko alpinist dove vai a prenderlo nero bello ci piace ed è penso uno degli orologi che preferisco mi piace tantissimo suo calibro 6r 35 72 ore di riserva di carica un calibro avrei preferito un fondello chiuso però va benissimo nessun problema tanto sta sotto al polso quindi non è un problema e nero mi piace anche a me bravo dove vai adesso in bagno a pigliare un altro presaico con calma passo a questo presagio e questo presagio l'ho comprato consapevole di cosa stavo prendendo perché mi piaceva più che altro l'ho visto da foto e quando è arrivato sono rimasto veramente sorpreso nulla di che non buttarlo giù dai è un simpatico però mi piace tantissimo questo quadrante nero con con questa lavorazione micro pallinata comunque veramente bello è bello e questo lo uso più che altro per le occasioni importanti più eleganti diciamo più eleganti va bravo chiudi con calma poi siamo qua a posto ma chiudi bravo passo al mio diver di seiko e ti mostro bevi un marine master limitata save the ocean con il quadrante con una finitura fantastica direi concordo finiture della casa che a me fa impazzire veramente veramente bello bracciale solido ho portato un una modifica al bracciale ecco perché la sua chiusura non non rendeva quello che doveva rendere e gli ho montato questa chiusura del del marine master 300 con la sua estensione della muta bel lavoro bravo ganso complimenti e anche questo orologio molto molto bello lo usa tanto spesso bella modifica sul campo quella che dicevo prima non ha fatto una modifica sul campo perché c'è serve per la battaglia serve farlo così dove sei andato poi ma poi cosa perché siete così lenti andiamo su un altro seiko presage vai con calma l'ho cercato tanto perché non riuscivo a trovarlo sharp edge con un quadrante rosso se te lo appoggio proprio bello veramente spettacolare cassa molto bella bracciale veramente veramente bello calibro 6r 35 70 euro di ricca 72 ore di carica anche questo preferirei preferirei aver avuto un fondello chiuso però va benissimo così e dai molto bello molto bello se i termini sono quelli la pochezza di termini quella molto passiamo al penultimo seiko che a te piace fino a ora mi piace un seiko cavoli top tieni ho preferito la versione con i finali dritti è bello mi piaceva un po di più ebbe la cassa è leggermente meno spigolosa come piace a me quadrante nero ho preferito il 40 nero perché beh lo sai dai sono un amante dei quadranti scuri e bracciale bellissimo fondello chiuso sono contento che questa volta hanno fatto un fondello chiuso e cosa di cosa dire è non lo so bellissimo molto bello meno male molto bene detto se no con calma adesso tra tra bene davide io ti saluto no ci credo e niente continua così a no no aspetta dimenticavo pareva a me no chissà dove scegliamo l'orologio che ho al polso eccolo qua con calma questo seiko brights e che dire su questo orologio è jdm comunque una versione giapponese lo fanno in giappone è uscito di produzione nel 2018 mi sembra cosa dire su questo orologio ha una cassa impressionante con delle finiture e delle lucidature presumo siano zaratsu e un quadrante cocktail spettacolare con lo champagne questa cassa è montata anche su gran seiko bracciale non sto a dirlo perché è veramente un bracciale solido con una chiusura solida calibro 6r 15 nulla di che va bene ma un orologio con le palle diciamola così e come ti permette boh è tutto ti saluto davide meno male love 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 un pochino lento nell'esposizione con tante pause ragazzi un consiglio quando sapete che dovete fare il video perché lo sapete no lo state per fare non mettete gli orologi sul tavolo laggiù chiusi dentro la scatola e dentro al cuscino chiusi cioè preparatevi già scatola con aperti in modo che prendi l'orologio e non fai tutta questa pausa lunghissima no perché questo video qua ora lo pubblichiamo perché per grazia ricevuta 10 minuti che si poteva fare tranquillamente in sette senza quelle pause lì nelle quali c'è il silenzio totale detto questo mio piccolo sfogo no sul su come dovete fare il video 7 ti do 7 perché veramente sei molto incentrato su seiko d'altronde l'hai detto anche te che sei collezionista di seiko ma insomma tra altre cose le hai presi tutti che mi piacciono ho cominciato da quei king secoli che è veramente l'orologino che insomma è uno di quelli che mi piacerebbe avere in collezione sinceramente con tutti quegli bei spigoli li vivi che mi fanno veramente vedere il giappone sa di giappone quel king secoli bello anche l'ultimo che io non so di che famiglia avrei detto presage no lì per lì con il quadrante cocktail così mi ricorda quello poi ti mi dito la cassa con le lucidature zarazzo non lo so non sono ferrato non so se quella che monta anche gran seiko come dici te è fatto sta che è un gran bello orologio oppure sento quel quadrante bianco che a me solitamente i quadranti bianchi poco mi soddisfano sono varie eccezioni questo qua mi soddisfa mi piaceva assai dai tutti i begli orologi compreso anche il secoli marine master con il quadrante save the ocean con quelle striature verticali mi è sempre piaciuto anche quello lì ecco magari ti mancava una cassa 62 mass anche quella lì mi piace a me particolarmente qua non c'era devi provvedere con uno di quegli orologi comunque complimenti al di là dell'esposizione un pochino così saltellante hai una bella collezione di orologi e ti faccio i miei complimenti love 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 ciao davide sono giancarlo con un bravissimo video di aggiornamento aggiornamento va bene ma intanto guardiamo cosa metti sul tavolo perché un pochino che non diamo un'occhiatella a quello che ci proponete a livello di personalità a livello di vostre passioni e qua abbiamo legato agli orologi abbiamo un catalogo della jungans del 32 33 si vede che sono fotocopie è un ciclo fotocopie poi messe insieme 32 però intanto l'hai fatto poi c'è il tissue antimagnetic bello bello anche quella pubblicità cos'è non è un catalogo quello lì o è un catalogo va bene bravo nel video precedente avevo preso l'occasione di presentare anche un aspetto un po diverso dell'ologeria presentando per esempio un pendolo jungans di fine anni venti che in italia veniva commercializzato sotto il marchio marca stella come da catalogo che ho trovato su internet che risale addirittura ai primi anni non sono anni 30 ce l'avamo lasciati con un mio desiderio di cercare di trovare se possibile un tissue antimagnetic anni 40 o 50 dopo un po di ricerche detto fatto l'ho trovato ed eccolo qui è un tissue antimagnetic che sulla base del numero che sta sul movimento si può far risalire al 1945 bello è un bicolore cosiddetto quadrante taxedo con numeri lancette al radio dimensioni piccole 31 millimetri ma quando un orologio ti piace dimensioni contano poco per cui anche se piccolino lo indosso volentieri certo è una di quelle cose che mi piacciono di tiso è il logo del vecchio marchio tiso non quello che utilizzano ora perché lo trovo veramente affascinante veramente bello concordo tra i più belli dei vari marchi prestigiosi di orologeria svizzera del dell'epoca niente c'eravamo lasciati l'ultima volta con confessando la mia passione per gli orologi vintage so che anche tu collezioni l'onjin vintage il mio passione è un po' diversa perché più che per amare chi è per esempio la passione di collezionare orologi vintage che hanno segnato un passo importante nella storia dell'orologeria per cui vale per il tessuto antimagnetic o un bulovacutron perché anche quello segue questo criterio mi piacerebbe un ultra clonadiver della nongin ma è un po' caro e non sono poi neanche molto d'accordo con te sul fatto che collezioniamo orologi vintage solo per guardarceli ogni volta e per godere della loro bellezza io francamente l'indosso spesso e volentieri con le dovute cautele e attenzioni anche perché devo confessare che a parte un secco 5 di recente produzione solo quelli ho per cui l'indosso spesso e volentieri bene video brevissimo saluto un calo saluto a te a tutti gli appassionati del canale un calo saluto a te non ti do il voto perché mi hai fatto vedere un orologino degli anni 40 addirittura al tessuto antimagnetic che cercavi e che sei riuscito a trovare bene hai fatto una piccola disquisizione anche sul discorso del vintage non sei d'accordo come perché ti è solo quelli indossi quelli con le dovute cautele è tutto il punto le dovute cautele non è che non si possono indossare anch'io l'indosso ma le dovute cautele a volte sono talmente dovute che mi impediscono di avere una una vita normale perché quando io indosso un longin con la cassa di quelli che che non è impermeabile assolutamente con la corona che a fare così c'entra dentro il l'oceano e me lo devo togliere se devo andare a lavarmi le mani non lo devo togliere mettere ma anche se dovesse uscire magari con lo scooter o una situazione qui ci sono le vibrazioni non ci esco devo mettere qualcos'altro quindi le dovute cautele come dici ti diventano talmente dovute talmente tante che mi impediscono di fruirne liberamente ci sono proprio tanti paletti paletti che non ci sono se indosso un orogio come questo qua del 22 posso lavarmi anche le mani qua nascono altri altri impedimenti tipo oddio è troppo prezioso per lavarsi le mani ma io me ne lavo le mani non è un problema lo indosso lavo le mani lavo i piatti anche con lo yacht master poi il discorso invece del tuo sistema di collezionare orologi vintage secondo delle pietre miliari dei punti fermi nella storia ha senso perché è la stessa cosa che faccio io però monomarca cerco di prendere dei longin laddove è possibile che abbiano segnato la storia via per un calibro nuovo o per qualcosa di differente anche per il design no anch'io c'ho l'ultronic che altro non è che il corrispondente svizzero del bulovacutro un calibro al diapason l'ho preso proprio perché rappresenta pietra miliare nel percorso di longin come l'ultracron ti dici il diver che costa tanto ma io con l'ultracron mi sono preso quelli normali non diver e costano il giusto 600 euro giù di lì quindi anche io c'ho il mio percorsino di longin con tutte poi io intanto c'è un orologio come l'admiral quello lì con la cassa quadrata che mi piace proprio a livello estetico da indossare e cavole quello l'ho preso e l'ho indossato anche per dieci giorni di seguito senza problemi però però ognuno fa come vuole comunque bravo complimenti per il tuo chiappetto e ci vediamo al prossimo aggiornamento cosa ne dici ti aspetto ciao davide ciao giuseppe e ti mando questo video da bristol in inghilterra si sente voglio fare un saluto al mio compessano piero ciao piero sempre forza palermo come primo orologio abbiamo un orient kamasu prima versione orologio conosciutissimo nel canale questo orologio mi è stato regalato da mia moglie quando inizi a lavorare per una jaileria in uk in poche parole è colpa di mia moglie se ho conosciuto la famosa scimmia che tutti quanti ben conosciamo all'orologio ho abbinato questo nato bicolore al fine di renderlo più tool watch quindi adatto a tutte le battaglie come ad esempio fare la fila al supermercato oppure l'andare a caccia di souvenir in vacanza prossimo orologio è questo tisso prx 35 mm anch'esso super conosciuto sul canale ho optato per il quazon in quanto si rifà maggiormente all'originale ed è inoltre leggermente più economico insomma come dire fa il suo la volpe l'uva prossimo orologio abbiamo questo glissin herman 36 mm orologio che mi piace tantissimo questo è stato il mio primo acquisto ponderato e di un certo costo riguardo l'orologio apprezzo molto il suo stile e la sua storia in quanto è stato il primo orologio nel quale poter monitorare un secondo bus orario l'orologio inoltre è stato ideato su specifica richiesta di un comandante pilota britannico nel 1953 molto molto bello bravo bianco adesso passiamo al mio ultimo acquisto cos'è ovvero l'emilton khaki aviation pioneer mechanical crono come dici bene nome lunghissimo è impossibile da ricordare un orologio che adoro e che non credo si ottenne il successo che si meriti anche questo è un orologio che si rifà alla storia del proprio marchio in quanto è una ridizione di un cronografo utilizzato dalla british royal air force negli anni 70 ciò che mi piace tanto di questo orologio è la sua leggibilità nonostante sia un cronografo sì è vero ed inoltre il suo quadrante nero è leggermente rugoso molto come dire molto bello molto bello sì ora l'hai girato finalmente un emilton con il fondello chiuso che rende giustizia anche allo spirito militare di questo di questo pezzo e visto quando l'hai girato senza uno diceva adesso guardiamo l'h10 il powermatic no c'è il bel fondello chiuso con le specifiche bello e si legge anche bene come dici ti è in effetti non è che si vede tantissimo in giro sul canale gente che lo elogia che lo ha comprato che probabilmente è andato più in voga quello che ho io l'intramatic sia a carica manuale che a carica automatica rispetto a questo qua che non ha nulla da invidiare anzi secondo me esteticamente parlando è anche un pochino più accattivante con questa cassa così a cuscino che va boh strane la vita abbiamo questo glissin bian 1914 bello anche questo orologio che non credo sia mai stato presentato sul canale ha 39 mm di cassa movimento sellita sv200 è uno spessore di 11.5 millimetri ciò che mi piace particolarmente di questo orologio è il suo vetro in stile glassbox come puoi vedere l'orologio di base viene venduto esclusivamente con un cinturino in pelle al fine di renderlo leggermente più adatto a tutti i giorni e a tutte le sfide quotidiane ho acquistato questo bracciale a chicchi di riso della forstner non è chicchi di riso questo è un orologio che indosso con piacere in ufficio e in situazioni anche magari più eleganti bravo ci sta male il bracciale ansi dritte no ultimo orologio della collezione Hamilton Bolton degli anni 50 bello orologio che presenta una cassa in 14 carati goldfield come si può vedi te l'avevo detto io l'avevo detto in un video di Longines che spesso in UK utilizzano i 14 carati e anche i 9 carati loro considerano oro anche il 9 carati proprio veramente no l'oro schiccio del ponte eppure loro lo considerano o lo consideravano adesso non lo so ti sto parlando io di quegli anni lì per loro il 9 carati era oro era materiale prezioso tra vedere questa incisione dalle mie ricerche goldfield corrisponde a loro incamiciato ed inoltre i numeri sono applicati in oro 18 carati è un orologio di dimensioni abbastanza piccoli piccole ed eleganti come puoi vedere è il cinturino è tutto un cinturino praticamente questo è un orologio che indosso con piacere con piacere in camicia ma anche semplicemente con una t-shirt bianca bravo riguardo alla domanda del giorno sono al momento indeciso tra l'acquistare un longines conquest da 38 mm oppure lo spirit da 37 tra le due opzioni basandoti sulla mia attuale collezione quale modello mi consiglieresti grazie ancora ed un saluto a te e alla community della scimmia rock 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 però io non so cosa consigliarti ora fammi dare un'occhiatella allora semplicemente allora vabbè diamo un voto alla collezione tutta insieme un bel 6 e mezzo di più non ti si può dare siamo un attimino in standby 6 e mezzo oggi voglio essere un pochino corretto di manica allora io tra tra il conquest da 38 e lo spirit dal 37 preferirei lo spirit dal 37 ho detto questo perché c'è tutti i bei numeri arabi intorno al quadrante la luminescenza è un bel pilot c'è veramente la qualità che c'è detto questo nella tua collezione però c'è c'è hai già un orologio con tutti i numeri romani intorno al al quadrante che è il glissin bm anche se oddio la qualità non è paragonabile con quella dello spirit questo è poco ma sicuro spirit lo metti contro luce vedi i numerini che si è che in rilievo belli squadrati puliti roba da guardare divertente proprio guardare lo spirit quello lì ci li ha stampati credo suppongo non è la stessa qualità per cui potresti anche prendere lo spirit però per diversificare parecchio potresti anzi prendere il conquest da 38 che è un pochettino più elegante e allora sì che ti va anzi io farei una bella cosa venderei il glissin e comprerei il conquest da 38 e lo spirit da 37 ci rientri no il costo è lì però dai parte di scherzi il conquest a 38 questo punto ti dico però poi alla fine devi decidere te però io prenderei lo spirit da 37 anzi io da 40 ti da 37 però ti consiglio il conquista 38 bene vedo che adesso tu ho reso le idee chiare quindi siamo a posto no bene bene ciao davide sono simone da torino volevo mostrarti la mia piccola collezione di orologi che me l'hai in città allora iniziamo da questo baume mercier 34 mm piccolo automatico lo usa più che altro la mia ragazza mettiamo a fuoco perché lo trovo piccolo per il mio polso si vede una minchia però ha il suo perché dai aspetta che non metta a fuoco bravo corona originale bellino dai simpatico mi ha fatto vedere niente ti so prx digital qualcuno l'ha venduto nuovo lo uso poco però mi piace ogni tanto lo uso ma uno dei pochi che l'ha preso quello qua il suo amico torinese ti so prx powermatico 80 questo lo uso già un po di più mi piace un sacco ma c'è venta vista ma certo trovo molto bello il bracciale di questo orologio qua praticamente uguale all'altro però infatti dopo di questo sono andato a comprare lui perché mi piaceva il bracciale bravo compra gli orologi per il bracciale vai avanti così poi poi passiamo a questo un perseo carica manuale non mi chiedere cosa monta non me lo ricordo l'orologio da tutti i giorni semplice cassa cromata tiene bene il tempo la scritta di di un stato un cinturino polpi coin alligatore blu lucido l'orologio da tutti i giorni la cassa cromata ha detto poi questo qui lo uso moltissimo mi piace un sacco soprattutto il quadrante che ha anidodap lo trovo ipnotizzante bellissimo poi oltretutto questo è tenuto anche benissimo quindi bello modello una peccato la cassa cromata proprio avanti la farò ricromare vediamo dai li facevano anche d'oro queste millimetri carino poi 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 passiamo a questo blanco scusami omega centuri centuri in oro 18 bello corona originale il quadrante sembra nuovo molto bello sento bene si con la sua fibietta scomparsa di omega bello il cinturino blu su loro sta sempre bene c'è da dire questo sempre di omega o ufo abbiamo comprato lui dynamic omega dynamic 41 mm corone originale bracciale originale l'orologio da tutti i giorni molto bello poi passiamo ai longin che so che non ti piace 1268 z quadrante un po virato però lo trovo bellissimo lo stesso ma si lo uso tantissimo ci piace la sua coroncina bello cinturino in lucertola molto belli gli indici mi piacciono un sacco punta di freccia bravo poi sempre di longin ho preso in un negozio l'ho trovato nuovo in una ufficeria non so come faceva ad averlo ancora senza sardegna longin dovrebbe essere la riedizione del militare degli anni 40 questa qui infatti se non erro mi sembra sono 1945 pezzi al mondo numero 417 replica le tacche dietro molto carino montano un movimento età 28 92 mi pare non vorrei sbagliarmi però quello dovrebbe montare che bella cassa che ha fatto lì una sua fibiettina certo ma nuovo contemporaneo questo non è che c'è da vantarsi lui è uno dei miei preferiti orco con longin 13 z n cassa moneta da 36 mm anza scalino fissa purtroppo dico purtroppo perché non riesco a trovare un cinturino ad anze fisse come si deve quindi mi tocca lasciare questo per adesso e fatelo fare questo mi pare che sia stato il primo cronografo di casa longina abbastanza raro per quello che ho sentito dire tra l'altro mi ha detto anche che il quadrante non è ristampato è questo da qua al suo original non saprei dirti se è caro condizionista epitosa si poi se non ce lo fai non mette a fuoco mettilo a fuoco perfetto devo fartelo vedere bene come dice rocco stupendo eh si poi per finire due giocattolini che li tengo lì tipo soprammobile perché non li metto però sono molto carini due casio videogame praticamente uno è il gm 5 l'altro il gm 16 carini due giocattolini anni 80 barra 90 ma si erano in voga in quel periodo lì li tengo lì in collezione ma certo e niente ti ringrazio per lo spazio allegria un saluto a tutti gli amici del canale ciao ciao e ti do un 6 e mezzo cosa vuoi che ti do 6 e mezzo a tutta la collezione che è dominata dai due prx agli iniziali e poi tutta una serie di anzi no ti do 7 ti do 7 ti do 7 perché ora mi viene in mente tutti questi bei longin che mi ha fatto vedere solamente perché sono oggi ti meriti un 7 ma soprattutto il cronograffino lì 13 zn ci piace tanto io in collezione non glielo ancora infilati i cronografi perché chiaramente costano di più come costano di più i diver come magari l'ultracrono quelli lì no quelli in particolari costichiano quando comprendi solo tempo te la capi già con 300 350 600 e quel range lì riesci a trovare gli orologi solo tempo di longin vintage cronografi e diver push push e quindi push push i quali push push li spendiamo dappertutto via pianino se no vabbè 7 te l'ho dato la passione c'è la melensità c'era quindi va benissimo così e che cosa ti posso dire al prossimo video dai prossimo prossimo ciao davide sono francesco da napoli e giuliano che mi riprende salutiamo anche tutti gli amici del canale che noi seguiamo molto attivamente bravo guagliù parto subito per farti vedere questo che è uno dei primi orologi che è un film watch icos automatico un cronografo non è icos è i macos e ce l'avevo anch'io ce l'avevo anch'io non con il quadrante bianco io ce l'avevo il quadrante blu mi sembra l'ho venduto perché lo presi perché c'è 77 50 dentro quindi era uno di quei casi nel quale te vai su ebay scrivi un marchio a caso e di fianco 77 50 tipo lorenz 77 50 e ti trovi dei cronografi insomma meccanici ad una cifra abbordabile e avevo scritto philip watch 77 50 era venuto fuori questo i macos e come forme come design cavoli è veramente futurista originale per il periodo in cui erano quindi l'ho presi proprio bello contento per con questo design così particolare anche un pochino diciamo ghiozzo come si suol dire però poi l'ho venduto sapete perché perché era illegibile ora non era bianco era blu ma veramente questo vetro fa dei riflessi che in determinate condizioni scompariva tutto già un cronografo complicato da leggere poi ci sono questi riflessi con la cassa tonda tondeggiante il vetro si capiva niente non riuscivo mai a leggere l'orario ma veramente quindi l'ho venduto anche con un po di dispiacere perché però sto qua vedo che bianco così invece si legge bene vedo che si legge bene bravo attelistico per questo vetro bombato per questa cassa molto spessa guarda lì molto pesante come orologio però all'epoca quando ero più giovane più ragazzo mi piaceva lo indossavo ma bello bello altro orologio che forse per te sarà un ciò che comincia fecale è un pierre bonnet anche questo automatico con un buon movimento che ricorda orologi ben più importanti ma mi piaceva per il caratteristico colore verde della ghiera è certo passiamo poi a questo frederico stan a quarzo batteria assi che ho comprato durante un viaggio negli emirati mi è piaciuto perché era per il cinturino e anche per lo spessore che è molto sottile è un quarzo per forza carino soprattutto da indossare durante degli eventi con vestiti di abiti più eleganti bravo ci piace così altro orologio che ho acquistato durante un viaggio se non sbaglio se non ricordo male a new york è questo citizen e con live che indosso attualmente quotidianamente perché un orologio diciamo senza particolari pretese ma che ha un buon una buona caratteristica nel visualizzare le ore e io però questo montava un cinturino in acciaio che non mi è piaciuto per la verità e seguendo il tuo canale ho comprato questo cinturino della cinturino nato comprato dall'amico jonkul straps bravo i tuoi consigli del canale è sfizioso ma è doppio quotidianamente devo dire effettivamente il cinturino è molto ben fatto ti sei fatto fare il nato classico quello doppio no io invece me lo sono fatto fare single pass cioè praticamente è una lingua di pelle che entra esce no e rimane anche più basso sul posto ti sei fatto fare il nato proprio completamente ma mi sembra che te lo sei fatto fare il fuori misura perché l'ansa sarà 22 e il cinturino è 20 ci vede un sacco di spazio tra le anse cioè già che te lo sei fatto fare artigianale non gli hai dato le misure giuste fatemi capire questa cosa comunque questo qua è il classico citizen imbroglione cioè che ecco drive che ruba la luce del sole e radio controllato che prende il segnale nell'aereo e si mette a posto da solo e sono buoni tutti così ruba la luce del sole e ruba il segnale via radio facciamo niente dentro c'è niente se non c'è nemmeno un cricetto che gira niente è molto morbido va bene poi ho acquistato questo takoyer takoyer formula 1 è un diver che conoscerai bene sicuramente ma c'era soprattutto per questi colori rossi delle lancette navette all'interno del dial e anche del questo questa striscietta rossa della corona è un bello orologio fa un po un po grande come come diametro però se non dai ver devo dire che richiama questo con questa sportività nei colori passendo spesso comunque buon motivo scegliere una rossa per rossi a me molto caro a questo long in idroconquest bello che spesso non ha bisogno di presentazioni lo abbiamo visto anche nel tuo canale certo molto molto bello massiccio bello massiccio mi piace molto il il fondello per questo questo diciamo questo questo alto rilievo che c'è basso rilievo ed è anche questo molto massiccio alto rilievo cos'è alto fuoco di recente poi ho acquistato un orologio questo orologio che un eberhard anche sempre automatico si legge bene per la maggior parte orologi come hai visto diver voleva un orologio un pochino più classico da indossare durante la serata o eventi con degli abiti eleganti ed è molto semplice si legge bello anche per la cassa diciamo uno stile abbastanza classico l'ultimo della serie che questo è acquistato veramente in maniera molto recente che è uno scusa girato è uno yema super me 500 anche questo l'ho acquistato grazie ai tuoi video per la verità io non conoscevo questa questo questo brand e vedendo i tuoi video l'ho apprezzato molto anche con le tue recensioni in effetti devo dire che mi dà molte soddisfazioni per i pochi giorni in cui l'ho indossato e bracciale questo sistema brevettato di blocco della ghiera e il bracciale che con questo effetto pelle di serpente altrettanto bello è anche la il fondello che ha questo ricamo della casa nel movimento in morto ricamo ed è molto mi piace molto perché comunque questo stile un po vintage che richiama i tempi passati bravo questo è tutto ti saluto e l'ho love 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 insomma abbiamo un po di difficoltà con i termini a espletare i termini vabbè comunque ti do un 6 e mezzo dai di più non si può dare un 6 e mezzo cioè in realtà hai dei belliori oggi ti me ne riteresti di più ma oggi mi voglio tenere basso oggi sono abbastanza critico hai anche saputo scegliere marchi differenti no ora a parte frederico stanta frederico stanta al quarzo e l'eco drive lì di citizen un broglio vabbè vanno bene per l'amore decino poi c'è un bel tagoyer un bel tagoyer formula 1 che hai scelto per gli accenti rossi no perché c'è la lancetta rossa la righetta rossa sulla corona e lo volevo e ognuno sceglie l'orologi per quello che c'è poco da stare a sindacare qua col ditino inquisitore e funziona così tagoyer è l'onginidro conquest le berard e glon insomma e lo jama super ma no da 6 e mezzo 6 e mezzo te lo trovo tutti i belli orologi non ti posso nemmeno dare una mezza cioffega forse quel pier bonnet all'inizio stile su mariner non credo sia qualcosa di rimarcabile qualcosa che ci ricorderemo nella storia dell'orologeria perché lasciato un segno però cioè in mezzo agli altri e ci sta dai 6 e mezzo te l'ho dato ti saluto caro amico e viva il marmo visto un bravo di carraro sotto lì quello è marmo di carraro l'ho visto anche allora ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua poi io non è che posso stare qua tutto il giorno a guardare i vostri video e commentarli insieme a voi farebbe piacere sarebbe bellissimo però ci sono anche delle funzioni che devo espletare e non sono fisiologiche si tratta proprio di andare a vedere i gattini su instagram che mi richiedono un grande sforzo di attenzione che però poi alla fine mi rilassano completamente questi gattini che saltano destra e sinistra quando giocano con i cani poi al massimo è quando i gatti giocano con i cani proprio si apre il cuore e capisci che forse il mondo ha un futuro io vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love Grazie a tutti